Si sono aperti e hanno raccontato di sé, ripercorrendo ovviamente anche i propri grandi successi sportivi. Nicolo Orlando Knut Knundez e la giovane atleta aretina Benedetta Cuneo, tra i premiati della 21esima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini, sono stati infatti i protagonisti dell'incontro I campioni si raccontano al Parco Epini a Castiglion Fiorentino. Tutti e tre hanno raccontato storie importanti di passato, di presente, di futuro che si sono amalgamati e fusi in maniera incredibile perché quando parlava uno gli altri due o le altre due ascoltavano devotamente e a turno si ascoltavano e a turno parlavano è venuta fuori una tavolozza bellissima di colori di vita e di sport, si è parlato dall'alto dell'esperienza di un ciclista che ha fatto cose straordinarie, compreso la vittoria alle Olimpiadi e al campionato del mondo, una ragazza che ha la vita sportiva davanti come Benedetta e poi la storia meravigliosa di Nicola. Quindi c'è stata direi una complementarietà perfetta. Filo conduttore dell'incontro ovviamente il Fair Play e l'etica sportiva. Il Fair Play per me è importantissimo per arrivare al livello alto, che sia nello sport, valori umani, bisogna rispettare le regole e così siamo felici e contenti ovviamente. Grazie a tutti.